Vittorio, il 29 il tuo concerto al Museo di Pitagora, un evento che tu aspettavi da tempo, dobbiamo dire, perché per te suonare e cantare a crotone è importante. Beh, è l'obiettivo primario per cercare di mantenere il dialetto vivo, anche tra i giovani, poi anche perché la lingua dialettale è importante per le tradizioni, è un obiettivo che ci lavoro per tutto l'anno e sono contento che per fine anno farò questo concerto al Parco Pitagora. Dobbiamo dire che lo aspettavi da un po' di tempo, questo invito a cantare nella tua città. Sì, anche perché i cantautori dialettali non è che sono molto invitati, anche perché è una musica che è particolare. Sono molti richiesti magari nelle comunità calabresi, in Italia e anche all'estero, però a crotone non è che si facciano tanti concerti in dialetto, come tante poesie in dialetto, eccetera, eccetera. Però un concerto ogni anno mi sta anche bene, ci mancherebbe altro. C'è un nuovo repertorio, rimane anche quel repertorio tradizionale? È un percorso artistico-culturale che dalle tradizioni va all'appello alla politica, va ai messaggi sociali e per finire chiuderò con un augurio per l'anno nuovo, 2020, sperando che vada tutto per il meglio. Auguri e buon Natale! Auguri e buon Natale, vi aspetto il 29 dicembre dopo la partita del crotone, dopo la partita, e poi andiamo allo stadio e dopo al Parco Pitagora il 29 domenica. Faccio un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo a noi, prima di andare a Genova, che è ben sicuri mai non siamo, che è quel posto dove andiamo, non ci inghiotte e non torniamo più. E pur pare...